Buonasera Alessandro Cane, sto sottopicando come da ribagli oggi, si è gonfiato una parte del ginocchio, caspita, finito adesso, sono le 1 e mezzo, mezzanotte e mezza, perché gli altri hanno fatto la roba, sono da 10 e mezza, uno è andato via, l'altro ha fatto tutta la roba di affettatrice, mi ha lasciato tutto in un dettamaio, da sporcare, tutto sporcato, che io ne ho manco usato la affettatrice, e avanti così, adesso la situazione a gamba è terribile, questo è come cammino, sto aspettando che arriva il 13 per farmi una settimana di letto e di cure, e di esami, perché, cazzo, ho fatto anche fino a Villafranca a piedi e non mi è venuto niente, ho tornato in bicicletta e non mi è venuto niente, adesso invece, cazzo, dopo la caduta, dolori schifosi, maledetti proprio, vabbè, vedremo come va a finire, intanto noi andiamo, andiamo avanti, disastro, e vado a casa, l'allonso qua, mi faccio una doccia, faccio una doccia e poi, e poi si vedrà ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!